riparte la champions league e all'olimpico c'è subito roma celsi valentina ballarini roma data favorita 270 celsi 265 il pareggio però a 350 il tuo pronostico ciao luca sono tutti gli amici di unibet mio pronostico visto che in campo c'è un'italiana io spererei per la vittoria ma anche in virtù della grande prestazione della squadra di francesco due settimane fa stanford bridge però la quota del pareggio mi piace moltissimo 3,50 quindi mi giocherai il pareggio esattamente come come l'andata bella è andata addirittura a spettacolo 6 gol 3 a 3 con la roma che ha perso una buonissima occasione perché era in vantaggio per per 3 a 2 però pareggio secondo me buona come quota anche per la sfida dell'olimpico perfetto infatti come dicevi tu l'andata fuochi d'artificio con il 3 a 3 partita molto spettacolare io ti propongo 1 per tre e mezzo a 2,65 cosa mi dici è ancora possibile così tanti gol non è male io io credo che non vedremo il celsi dell'andata con te sistemerà qualcosina aveva fatto mea culpa dopo la sfida appunto di stanford bridge spero di non vedere la roma dell'andata in fase difensiva esatto molto dipenderà dal recupero di mano l'asse per cui sia una buona quota però io starei sull'over sempre ma due e mezzo perfetto amici di unibet quindi il pronostico di valentina ballarini pareggio anche all'olimpico dopo quello di stanford bridge e un over 2,5 quindi non tantissimi gol ma tanti gol alla prossima